A quel punto ho offerte da società italiane importanti, ma arrivano offerte estere e io preferisco andare all'estero per non passare direttamente dal Napoli a un'altra società italiana. Faccio un'esperienza bellissima, perché la Premier League è un'esperienza bellissima. Nella seconda parte di questa esperienza, anche per motivi più personali e professionali, comincio a sentire bisogno di ritornare in Italia. Quest'opportunità mi è offerta dalla Juventus, dalla società attualmente più importante d'Italia. Penso sia anche il coronamento di una carriera lunghissima, che nell'80% del percorso è stata una carriera anche difficilissima. Quindi penso di aver rispettato tutti e nell'ultimo atto dovevo rispettare la mia professione, la mia professionalità e il mio percorso.